Bentornate e bentornati a Radio Cicap. Io sono Dalsara e oggi sono in compagnia di Elisa. Ciao Elisa. Ciao Dalsara, ciao a tutti e ciao a tutte. Ci siamo dimenticati qualcosa, aspetta, mi sono dimenticata qualcosa di importante, forse che Enrico ci si lamenterà tantissimo, dove ci possono trovare i nostri ascoltatori? Lo vedo già che si lamenta dietro le quinte. Sì, allora, se vi foste imbattuti in questa puntata ma vorreste ascoltare anche gli altri episodi o le scorse stagioni, sappiate che potete trovarci sulle principali piattaforme di diffusione di podcast, quale Spreaker, Apple Podcasts e Spotify. Se invece volete rimanere in contatto con noi potete farlo tramite social oppure scrivendo a podcast.cicap.org. Allora, oggi parliamo di cambiamento climatico e lo facciamo dal punto di vista economico. Lo facciamo con la nostra ospite, Giulia Conforto. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è ricercatrice presso eThink, una spin-off del Politecnico di Vienna e si occupa di transizione energetica. Come prima cosa vorrevo chiedere a Giulia, che ringrazio per essere qui, di aiutarci a capire che cosa si intende con transizione energetica, ossia se all'interno del mondo degli addetti ai lavori c'è una definizione precisa, c'è un confine con cui si identifica e in che relazione sta con la transizione ecologica. Così, diciamo, sappiamo di cosa stiamo parlando. Iniziamo con una domanda semplice, no? Dunque, non c'è una definizione unibuca, però ti posso dire che cosa intendiamo di solito con transizione energetica. Cioè il passaggio dal sistema energetico attuale, che principalmente si basa sul consumo di fonti fossili e non rinnovabili, ha un sistema più efficiente, quindi che offra magari gli stessi servizi e gli stessi processi consumando meno energia e che emetta meno emissioni, quindi tramite diverse soluzioni, principalmente un utilizzo maggiore di risorse rinnovabili. Infatti di transizione energetica alle volte si parla anche in termini di decarbonizzazione. Però ci sono tanti termini, sai, che possono essere usati. Alle volte sentiamo dire l'energia verde. L'energia verde in realtà non vuol dire niente, però questo ce lo diciamo solo noi tre. Sui giornali l'energia verde viene utilizzata per parlare di rinnovabili, perché l'idea del verde rimanda alle piante. Si parla di transizione ecologica quando si inserisce anche l'aspetto dell'ecologia. Quindi una transizione volta a raggiungere un livello di sostenibilità in senso più ampio, un livello di sostenibilità maggiore. Quindi non solo riduzione dei consumi e delle emissioni, decarbonizzazione di quei consumi, incremento di fonti rinnovabili, ma anche per esempio introduzione di un sistema ad economia circolare dove si riducono gli scarti e spesso quello che arriva alla fine del ciclo come rifiuto viene trasformato in ritorno a materia prima. Una riduzione degli inquinanti, per esempio nell'agricoltura, ma in tutti i settori. Ti devo dire che la mia specialità è l'economia delle risorse energetiche. Quindi qui rischiamo di sforare su temi che conosco ma non sono esattamente il mio territorio. Quindi dalla tua descrizione diciamo di transizione energetica sembra più un misto diciamo di un aspetto più tecnico, un aspetto più culturale e un aspetto più economico? Oppure l'abbiamo interpretata male? Dunque la transizione energetica comporta dei cambiamenti che hanno conseguenze sotto tutti questi aspetti. C'è il problema tecnico, per esempio installare un pannello fotovoltaico nel sud Italia o in Danimarca avrà una rendita diversa perché il raggiamento solare e il numero di ore in cui il pannello è attivo è semplicemente diverso, però non significa che non si possa fare e non significa che non sia un investimento redditizio perché mentre i problemi tecnici sono problemi che col tempo spesso si riesce a superare, i limiti economici sono frutto di un concetto molto relativo. Vi faccio un esempio. La stima dei giacimenti di petrolio disponibili, delle risorse petrolifere disponibili al mondo è una stima che fluttua in base al prezzo del petrolio perché ci sono alcuni giacimenti che hanno costi di estrazione e contengono un prodotto greggio che ha costi di raffinazione magari più bassi per cui quei giacimenti, di solito parliamo dei giacimenti in Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, da lì viene il greggio di più alta qualità per questi motivi, restano sempre economicamente sfruttabili, mentre altri giacimenti, gli scisti bituminosi, i giacimenti ultraprofondi, per esempio quelli a largo delle coste del Brasile, oppure i giacimenti in Venezuela che contengono un greggio che ha costi di raffinazione molto più alti perché ha caratteristiche fisiche diverse, fisico-chimiche diverse, diventano economicamente sfruttabili solo quando il prezzo del greggio è più alto. Bene, quando parliamo di transizione energetica, quindi risorse rinnovabili, efficientamento degli edifici, dei processi industriali, lo stesso concetto si applica. Ora che stiamo attraversando diciamo una crisi energetica in Europa dovuta anche al conflitto in Ucraina, il prezzo dell'energia è salito, il prezzo del gas è più alto anche perché ci sono dei dati che confermano che durante il 2021 Gazprom abbia progressivamente svuotato i sistemi di stoccaggio di gas naturale in Europa. Non vorrei fare un'illazione però, visti gli eventi più recenti, sembra ragionevole pensare che fosse una mossa più politica che economica per avere un potere negoziale maggiore in vista poi delle azioni militari e della guerra. Ora che il prezzo dell'energia è più alto, alcune fonti rinnovabili da alcuni sistemi che prima potevano fare fatica ad essere considerate economicamente fattibili rientrano in una fascia di fattibilità e di profittabilità molto più ampia. L'energia in Italia, da chi viene presa? Io so tipo che l'energia elettrica credo in gran parte, magari sbaglia, quindi correggetemi se dico una sciocchezza, mi sembra che l'energia elettrica venga in gran parte dalle centrali nucleari francesi, possibile? Ero solo curiosa perché rispetto a quello che dicevi prima di, diciamo, il costo dell'energia è cresciuto, cioè volevo capire effettivamente se, diciamo, quali erano i nostri fornitori energetici a questo punto. Il costo dell'energia è cresciuto in tutta Europa perché tutta l'Europa dipende in quantità diverse dall'importazione di gas russo. Alcuni paesi ne dipendono molto di meno, per esempio la Spagna, poiché si trova molto distante dalla Russia, avrebbe dovuto pagare dei costi di trasporto per il gas naturale molto maggiori rispetto a un paese più vicino, per esempio la Polonia o l'Ungheria, ha scelto di investire anziché in un pagamento continuativo di questi costi di trasporto nella costruzione di rigassificatori, perciò la Spagna ha una dotazione di rigassificatori che è sufficiente a coprire quasi la totalità del proprio fabbisogno di gas. Quindi semplicemente la Spagna si approvvigiona da altri paesi fornitori e tramite gas liquefatto, il gas viene liquefatto, trasportato via nave e poi rigassificato al rigassificatore. Per esempio l'Italia, Euro è stata pubblicata di recente una statistica sul tasso di dipendenza energetica dei paesi europei e com'è cambiato dal 2000 al 2019. L'Italia è il quarto paese dall'alto per dipendenza energetica dall'estero, almeno così è stato rilevato nel 2019, poi bisogna vedere che i dati del 2019 possono fare riferimento anche all'anno precedente. Dunque nel 2019 l'Italia aveva riportato una dipendenza energetica prossima all'80% e nel 2000 vicina al 90%. Per capirci per esempio la Danimarca è un territorio di energia positiva, esporta energia, quasi per il 40%. Quindi noi siamo molto dipendenti dall'energia diciamo importata. Dall'energia di importazione, certo. Tu dicevi l'Italia importa dell'energia elettrica dalla Francia che è quella che viene dalle centrali nucleari. Sì, questa è una semplificazione perché in realtà l'Italia importa energia elettrica appunto. Sai, l'energia elettrica si diffonde nella rete come farebbe l'acqua in un sistema di tubature. Una volta che l'energia è nella rete tu non sai esattamente da quale sistema è arrivata. Non puoi risalire all'energia che hai consumato accendendo la luce di casa, da quale centrale è stata prodotta. Però la maggior parte della produzione elettrica in Francia proviene da nucleare. Noi importiamo anche dalla Slovenia, abbiamo delle linee di trasmissione anche con la Svizzera, con l'Austria. Diciamo che non sempre importiamo. Per esempio ci sono momenti in cui noi importiamo e momenti in cui esportiamo. Dipende dal prezzo. Sono momenti in cui l'energia elettrica in Italia è prodotta in quantità sufficiente e costa meno di quella in Francia e quindi la rivendiamo. Noi dipendiamo molto per i combustibili fossili, quindi petrolio, gas. Abbiamo diversi gastotti sia via terra che via mare. Questi gastotti non sono sempre utilizzati al 100% della capacità dal mercato italiano, però diciamo che siamo lontani dall'indipendenza energetica. Le risorse rinnovabili potrebbero aiutare in questo senso perché ovviamente aumentare la produzione da solare, eolico, idroelettrico e biomassa permette la produzione in loco, ma permette soprattutto la produzione decentralizzata. Quindi anziché parlare solo di centrali abbiamo i prosumer, quei consumatori che sono anche produttori. Ci sono anche dei limiti tecnici, non è semplicissimo. La transizione energetica non è un processo semplice, questo è uno degli aspetti che vanno sempre tenuti in considerazione, però è un processo necessario. Di fronte a scelte difficili dobbiamo sempre chiederci qual è la priorità. La priorità è continuare a pagare l'energia poco, fino a quando non c'è una guerra che fa alzare i prezzi e quindi non possiamo nemmeno pagarla più poco. E pagare poco per limitati investimenti in infrastrutture più moderne e più efficienti, col rischio che già sappiamo che il cambiamento climatico avanzi e acceleri e il riscaldamento globale continui ad avanzare e un giorno ci troviamo di fronte a tutte le conseguenze negative, quindi aumento delle temperature, eventi atmosferici estremi, riduzione della produzione agricola, aumento dei costi dei prodotti alimentari e agricoli, riduzione della disponibilità di acqua dolce, perdita della biodiversità, flussi migratori che potrebbero essere anche molto problematici. Oppure è più importante che evitiamo delle conseguenze così gravi e che quindi facciamo uno sforzo oggi? Io volevo chiederti invece, sempre collegandomi alle cose che mi hai detto prima, come la guerra in questo momento abbia influenzato il nostro sguardo sulle rinnovabili? Cioè di andare un pochettino più in dettaglio se su questo fronte ci sono già delle discussioni o dei cambiamenti? Certo, ce ne sono da tempo e ce ne sono state ancora di più con la guerra. Quello che è interessante è che parliamo di transizione energetica dagli anni 80, cioè dagli anni 50 siamo consapevoli, perché abbiamo misurato le emissioni che produciamo anno per anno, giorno per giorno, siamo consapevoli che continuiamo ad aumentare, che la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera continua ad aumentare. Dall'inizio del secolo siamo consapevoli che il consumo di combustibili fossili rischia di aumentare le temperature globali per effetto delle emissioni di anidride carbonica che si producono bruciando questi combustibili. Dagli anni 80 siamo consapevoli che i cambiamenti climatici stanno avvenendo ad un ritmo sempre maggiore e che potrebbe essere sempre più preoccupante. Parliamo di transizione energetica sempre più assiduamente da una decina d'anni, diciamo, no? Però solo ora che di fronte ad un aumento del prezzo del gas naturale del 200% in dicembre 2021, gennaio 2022 rispetto all'anno precedente, è come se fosse suonata la campanella d'allarme. Il problema è che il consumatore medio, ma la società anche a livello globale, a livello di sistema paese, non percepisce il cambiamento climatico come un rischio grave e imminente, mentre l'aumento dei prezzi dell'energia viene percepito come un problema molto urgente e grave. Perché tocca a tutti. Certo che tocca a tutti. Gli scienziati hanno capito quanto e continuano a metterci in guardia da diversi decenni, ma a livello di uomo della strada, a livello di pubblica amministrazione, non è ancora percepito come uno dei punti dell'agenda politica che vanno portati avanti. Se ci sono fondi, però se non ci sono fondi si può anche aspettare. Non è percepita l'urgenza e la gravità della situazione. Quindi la guerra, per rispondere alla tua domanda, ha intensificato le discussioni in merito alla transizione. Perché è come se la guerra fosse un esame che noi sapevamo che sarebbe arrivato prima o poi, che potesse arrivare prima o poi e per il quale non ci siamo preparati. Adesso stiamo discutendo su come prepararci in fretta e furia. Il problema non è la guerra di per sé, ovviamente con il massimo rispetto per le persone che ne sono coinvolte, ma riguardo alla transizione energetica, il problema non è l'aumento dei prezzi momentaneo dovuto alla guerra. Il problema è che qualunque shock asimmetrico esterno può mettere in difficoltà un sistema energetico che è fortemente dipendente dalle importazioni e che non è diversificato. Decisioni concrete che sono state prese di recente. Dunque, a livello europeo erano già in corso dei negoziati e delle discussioni per alzare i target relativi alla transizione energetica al 2030. Al 2020, lo sappiamo, erano 20-20-20 per la riduzione delle emissioni, l'incremento dell'uso di risorse rinnovabili e di energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica. L'aumento dell'efficienza energetica si intende la riduzione dell'intensità energetica, quanta energia viene utilizzata per lo stesso output economico, per lo stesso processo industriale. Al 2030 i target erano della riduzione del 40% delle emissioni, del raggiungimento del 32% di energia da fonti rinnovabili e del 32,5% di efficienza energetica. I negoziati per alzare questo target di riduzione delle emissioni erano già in corso, più o meno da un anno e mezzo. Di recente è stato approvato un aumento della riduzione delle emissioni al 55% entro il 2030, perché risulta sempre più chiaro che più avanziamo nella transizione energetica, per lo meno in Europa, più è facile accelerare la transizione per la disponibilità di tecnologie, per la disponibilità e accettazione da parte dei cittadini, per la presenza di questo tema nelle agente politiche, per la creazione di nuovi strumenti finanziari, da un lato, e dall'altro invece diventa sempre più chiaro che i target precedenti non erano sufficienti per raggiungere la neutralità carbone entro il 2050. Poi dobbiamo sempre pensare a una cosa, questi sono target europei, l'Europa è responsabile più o meno per il 10% delle emissioni al mondo, poi c'è il resto del mondo. Quindi se anche l'Unione Europea raggiunge la neutralità carbone entro il 2050, non è che abbiamo evitato il problema del cambiamento climatico e ci siamo salvati, abbiamo semplicemente accelerato in una parte del mondo dove possiamo permettercelo per via delle condizioni dell'economia in cui viviamo. Bisogna poi preoccuparsi che anche tutto il resto del mondo possa seguire questa transizione e che questa transizione non significhi per gli altri paesi un peso che ne limiti la crescita laddove noi al nostro tempo abbiamo avuto il diritto di crescere come volevamo. Questa è per esempio la critica che viene mossa spesso dai paesi in via di sviluppo. Narenda Modi alla COP aveva portato esattamente questo punto, aveva detto l'India non è assolutamente contraria alla transizione energetica perché questo non significhi costi aggiuntivi che limitino la crescita del nostro paese quando voi al vostro tempo non avete dovuto sopportare questi costi. Il problema è sempre quello, che noi vediamo dei costi aggiuntivi nella transizione energetica perché contiamo soltanto quei costi che hanno un prezzo ma non contiamo tutti i costi a cui non diamo un prezzo che sono per esempio le conseguenze del cambiamento climatico. Parlando di transizione energetica si sente spesso nominare i certificati bianchi. Ci dici che cosa sono e se per esempio questi sono regolamentati a livello europeo? Una serie di industrie in Europa, considerate industrie energivore perché consumano ed emettono oltre una certa soglia sono obbligate a partecipare al mercato dell'Emission Trading Scheme. All'inizio del mercato l'Unione Europea ha distribuito una serie di certificati bianchi e ha lasciato che il mercato decidesse via via il prezzo di questi certificati. Il sistema non è sbagliato, il sistema è un sistema molto intelligente perché il punto è che poiché fino ad ora non abbiamo dato un prezzo alle emissioni e quindi introduciamo un nuovo costo nei sistemi di produzione e non tutti sono disposti o sono in grado di sopportare quel costo soprattutto alcune industrie dei processi che utilizzano, del luogo in cui si trovano, della loro conformazione potrebbero addirittura trovarsi nella condizione in cui ridurre le emissioni l'investimento necessario per efficientare e decarbonizzare i loro processi interni riducendo le emissioni potrebbe costargli di meno che non comprare dei certificati bianchi equivalenti alle emissioni che vanno poi oltre il limite al loro concesso. Quindi il certificato bianco è un lascia passare di emissioni sostanzialmente? Diciamo che il certificato bianco va comprato per coprire le emissioni in eccedenza oltre a un certo limite assegnato. Questo sistema si basa sul concetto di costo marginale dell'abbattimento delle emissioni. E qui mi hai persa, Elisa. L'hai colta? Non lo so. Allora provo, vediamo se ho capito. Sostanzialmente tu, l'Europa stabilisce una quantità di emissioni per industria e poi emette queste certificazioni sulla base di quanto tu eccedi con l'idea che se tu fai la transizione cerchi sostanzialmente di abbattere tutto l'eccesso perché pagare quell'eccesso diventerebbe per te più costoso che non cercare una soluzione alternativa. Quindi io ti impongo, tra virgolette, di mutare perché alla fine mutare è per te più conveniente. Giusto? Sì, in realtà il sistema impone soltanto quello che noi chiamiamo cap and trade quindi pone un limite massimo alle emissioni e se le entità che per normativa europea devono partecipare all'emission trading scheme perché sono energivore e mettono oltre quel cap sono obbligate a entrare nella parte di trade. Poi, se scelgono di acquistare un certificato bianco sul mercato dell'ITS oppure se scelgono invece di efficientare i propri processi interni e ridurre le emissioni all'origine, è una scelta individuale. Io però a questo punto ho due domande. Intanto è, se io scelgo di non acquistare un certificato bianco ma di rinnovare come faccio a testimoniare nel tempo che mi hai richiesto perché immagino che il rinnovo non sia istantaneo come faccio a comprovare questa cosa innanzitutto? Dunque, allora qui entriamo su un tema di cui non si parla molto. Noi calcoliamo le emissioni con una stima. Esistono pochissimi laboratori nel mondo dove le emissioni vengono calcolate perché uno spettrografo effettivamente conta quante particelle di anidride carbonica ci sono nell'atmosfera. In tutti gli altri contesti le emissioni dell'individuo, di un'azienda, di una città, di un sistema paese, vengono calcolate con dei fattori di conversione. Quindi noi misuriamo il consumo di energia perché quello lo sappiamo misurare in kilowattora oppure metri qui di gas, in joule, giga joule. E poi, a seconda dei processi industriali che sono stati utilizzati in quel sito, convertiamo quel consumo di energia in una stima di quante tonnellate di anidride carbonica sono state emesse. Quindi dopo un intervento di efficientamento di un sito industriale, a fronte dei nuovi consumi energetici, viene certificata una riduzione non solo dei consumi ma anche delle emissioni. Sai, il concetto di costo marginale di abbattimento delle emissioni è molto semplice. Il costo marginale è il costo per singola unità. L'abbattimento delle emissioni è la riduzione delle emissioni. Quindi se all'industria in questione fare un intervento di efficientamento dei propri sistemi industriali o anche di tutto il sito costa di più per singola tonnellata di anidride carbonica rispetto a comprare dei certificati bianchi per l'ammontare delle emissioni che vanno oltre il limite di cap, quella industria preferirà andare sul mercato di TS e comprare il certificato. Se in un'altra parte dell'Europa, un'altra industria, invece, scopre che efficientare i propri processi industriali costa di meno per tonnellata di carbone che non comprare i certificati bianchi, preferisce l'efficientamento. Questo è l'aspetto geniale del sistema cap and trade perché il sistema impone soltanto il limite massimo di emissioni e una possibilità per chi non riesce a rientrare in quel limite di pagare al sistema stesso il costo delle conseguenze negative del fatto che sta continuando ad emettere oltre il limite a lui assegnato. Però, laddove ci sono delle sacche di efficienza, anche economica, chi può pagare di meno la riduzione delle emissioni, lo fa, paga di meno. Quindi, mano a mano, il sistema cap and trade, il sistema di compravendita dei certificati bianchi, come posso dire, sfrutta il vantaggio dei costi marginali di abbattimento delle emissioni sempre più bassi, perché chi ha costi minori preferisce ridurre anziché comprare. Se io acquisto una cosa che vorrebbe compensare le mie emissioni, come lo compenso? Cioè, come si traduce questa cosa in una compensazione? Dunque, a livello europeo, i fondi, come posso dire, i proventi della compravendita di certificati bianchi vanno in un fondo europeo che si chiama ETS Innovation Fund ed è un fondo destinato a investire nell'innovazione tecnologica per la decarbonizzazione del sistema europeo. Però tu non comprerai i certificati bianchi come singola. Un'industria che viene nominata nella lista di industrie energivore e che quindi è tenuta a dimostrare di emettere meno di una certa soglia e consumare meno di una certa soglia, dovrà poi dimostrare o di aver rispettato quella soglia a fronte del suo bilancio energetico annuale oppure di aver acquistato dei certificati bianchi per la parte di emissioni che supera la quota assegnata. Come individuo c'è un'altra cosa che c'è un sistema simile però nel quale io non ho moltissima fiducia te lo dico subito ed è il sistema della compensazione delle emissioni. Il singolo individuo acquista un biglietto aereo e la compagnia da cui lo acquista solitamente offre la possibilità di compensare le emissioni che verranno prodotte con l'utilizzo di quel volo. Ora, mentre il sistema di certificati bianchi in Europa raccoglie fondi dalle aziende che non hanno costi marginali di abbattimento delle proprie emissioni così bassi da preferire di ridurle ma continuano ad emettere oltre la soglia loro assegnata e li dedica ad un fondo che investe nella transizione del sistema energetico europeo. Quindi i soggetti più inquinanti, i soggetti economici più inquinanti finanziano indirettamente tramite questo sistema la decarbonizzazione del sistema in cui si trovano di tutto il sistema europeo. Mentre il singolo passeggero il singolo individuo che acquista un certificato di compensazione delle emissioni di solito questi certificati di compensazione funzionano così. Il volo di un'ora emette non lo so, mezza tonnellata di CO2 i voli emettono tantissimo giusto per chiarirci il carbon footprint di una persona che non viaggia molto che non vola potrebbe essere di poche tonnellate all'anno e aggiungere un paio di voli intercontinentali capace di raddoppiare l'impronta carbone annuale di una persona. Quindi diciamo che l'individuo vuole comprare il singolo vuole comprare un certificato di compensazione delle emissioni l'azienda che offre il certificato certifica che quella mezza tonnellata di energia carbonica verrà riassorbita con diverse attività però se noi andiamo a guardare le attività sono di solito piantare alberi o installare pannelli fotovoltaici o distribuire delle stufe che di solito sono o a gas o a pellet quindi si chiamano clean cook stove rispetto alle stufe che sono utilizzate in alternativa in diverse regioni dell'Africa subsahariana e anche dell'Asia meridionale però quello che di solito non viene chiarito è che il modello con cui viene stimato che queste attività che vengono finanziate con l'acquisto della certificazione calcola che quella mezza tonnellata verrà riassorbita nei prossimi 10, 20 o 30 anni io mi metto adesso in un'ora di volo pago 5 euro perché quelle emissioni vengano riassorbite nei prossimi 30 anni dall'altra parte del mondo che senso ha se noi stiamo finendo il tempo per riuscire a limitare i danni del cambiamento climatico ora dobbiamo agire ora e per questo io non non ho grande fiducia in questi sistemi di compensazione delle emissioni individuali non so se vi ho confuso ancora di più no però però proprio ripetere così vediamo se ho sbagliato qualcosa allora sostanzialmente il sistema di compensazione che hai descritto funziona con le industrie molto energivore ma sul singolo individuo diciamo così è più fallimentare sai perché? perché il sistema di ETS emission trading scheme è un sistema cap and trade quindi ogni industria ha un limite massimo di emissioni e consumo ovviamente parliamo dell'industria energivore mentre l'individuo non ha un sistema cap and trade noi non abbiamo un limite massimo di emissioni che possiamo produrre come singolo è un la compravendita dei certificati di compensazione delle emissioni del singolo individuo si fa su base volontaria ok e senti a tal proposito vorrevo rifare un riavolgere il nastro e tornare alla domanda che aveva fatto all'inizio ossia posto che appunto alcuni diciamo per alcuni abbiamo stabilito dei costi invece che cosa ad oggi è calcolato e cosa no come prezzi come costi insomma per chi non rientra in questi microsettori che si sta iniziando in qualche modo a regimentare beh le esternalità negative non sono non sono calcolate non rientrano nel conto no noi quando guardiamo al sistema economico parliamo del paese Italia oppure dell'Europa è uguale sappiamo che produrre certi beni fornire certi servizi ha un costo per il singolo o l'azienda che produce quei beni e i servizi poi poi l'azienda mette a questi prodotti e beni e servizi un prezzo che serve a ripagare il costo e anche a sostentare l'azienda e il consumatore pagherà quel prezzo ora i costi possono essere materie prime costi tutti i vari costi che vengono sostenuti però noi non stiamo dando ancora ad oggi un prezzo ai costi che non abbiamo quantificato come per esempio l'aumento di cure mediche per via dei livelli di inquinanti che abbiamo emesso per anni ora la legislazione europea è sempre più stringente nei confronti degli inquinanti però continuiamo ad emetterne riguardo alle emissioni perché di questo stiamo parlando non parliamo per esempio dei costi che dovremo sostenere nei decenni a venire per la disponibilità di acqua dolce per la riduzione di produzione alimentare agricola per le riparazioni successive a eventi climatici estremi la perdita quelli che si chiamano stranded asset la perdita di infrastrutture nelle quali abbiamo investito ma che a un certo punto non potremo più utilizzare per esempio le costruzioni lungo il mare dovesse il livello del mare aumentare a tal punto da non poterle più utilizzare perché si troverebbero allagate questi costi sono tutte esternalità negative l'esternalità sono l'esternalità è un concetto che indica l'effetto di un'azione dell'individuo economico quindi singolo azienda paese qualunque azione ha degli effetti può avere degli effetti sul soggetto che ha posto in essere questa azione ma può avere degli effetti anche su altri soggetti e quando ha degli effetti sugli altri soggetti che non sono quelli che hanno posto in essere l'azione si chiamano esternalità oppure economie esterne o diseconomie le esternalità possono essere positive o negative se pensiamo a due agricoltori un agricoltore decide di piantare degli alberi da frutto l'altro agricoltore ha delle arnie gli alberi da frutto aumentano la produzione di miele delle arnie dell'agricoltore vicino è un'esternalità perché non è l'agricoltore proprietario delle arnie che ha fatto qualcosa per aumentare la propria produzione di miele beneficia dell'azione di un altro ecco ci sono delle esternalità negative per esempio l'inquinamento è un'esternalità negativa l'azienda che installa una fabbrica produce inquina crea intanto un ambiente meno vivibile meno piacevole meno salubre può darsi che le persone che vivono nei nei dintorni di quella di quella fabbrica si ammalino allora non è soltanto una perdita di salute per le persone ma è anche un costo per la società perché se si ammalano avranno bisogno di cure mediche quelle cure mediche sono pagate da tutto il sistema l'azienda che inquina non paga per i costi indiretti dell'effetto negativo delle sue azioni ecco le emissioni di energia carbonica hanno delle esternalità negative molto forti un consumo di energia così alto come quello che abbiamo raggiunto soprattutto in una certa parte del mondo parliamo dei paesi più sviluppati ha tra le altre conseguenze l'innalzamento dei livelli del mare però l'innalzamento dei livelli del mare crea dei problemi perché rende le zone costiere invivibili non nei paesi che hanno consumato e quindi emesso così tanto ma in paesi per esempio del sud-est asiatico della Polinesia mi chiedo se per caso l'Unione Europea o enti diciamo globali stanno dando almeno delle linee guida in questo senso cioè per spingere in qualche modo la società i governi quello che sono a dare un prezzo anche a queste conseguenze dunque non so se mi sono spiegata certo certo a livello di regolamentazione non abbiamo un'uniformità in tutti i paesi del mondo c'è l'attività fatta fatta da diverse organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali governative il panel dell'IPCC UNFCC la COP tutte le iniziative delle Nazioni Unite per capirci che lavorano per portare di fronte agli occhi di tutti l'urgenza dell'azione per mitigare il cambiamento climatico però questa è soft law non non sfocia poi in una regolamentazione che viene implementata e deve essere rispettata altrimenti ci sono delle conseguenze diciamo che il senso di questa soft law è preparare la base perché poi i singoli paesi abbiano invece il prendano il passo successivo e legiferino e a livello europeo i target e la regolamentazione per il cambiamento per la mitigazione del cambiamento climatico ci sono danno questo segnale continuano ad avanzare mano a mano i target vengono alzati e mano a mano ci sono sempre più sistemi che facilitano e incentivano la transizione energetica l'unione europea non è l'unico paese che ha dato così tanta priorità alla transizione energetica ce ne sono tanti altri la norvegia per esempio l'islanda io comunque immaginavo qualcosa invece più pratico invece di diciamo questa questo insieme di azioni di sensibilizzazione immaginavo proprio capisco chiaramente che il problema è sicuramente governativo nel senso che ogni paese deve poter decidere ovviamente del proprio territorio però immaginavo una roba diciamo più più concreta in termini magari di come che si dice di sanzioni immaginavo una cosa in questi termini piuttosto che suggerire e basta l'unico modo perché un'entità che non sia un'entità politica statale possa legiferare su un tema è che chi ha la competenza legislativa su quel territorio e su quel tema se ne privi per darla all'entità superiore quindi per esempio in Unione Europea l'Unione Europea può legiferare solo fino a dove gli stati membri si sono privati di una parte della propria autonomia e l'hanno concessa le Nazioni Unite non hanno ricevuto questa concessione le Nazioni Unite non possono legiferare le Nazioni Unite al massimo possono convocare dei tavoli e delle conferenze dove possono essere negoziate delle convenzioni ma poi gli stati su base individuale possono decidere se firmare o meno le convenzioni per esempio la convenzione di Chioto del 1997 era una di queste il problema qual è? è che non essendoci un'entità sovrastatale capace di un potere coercitivo se gli stati firmatari della convenzione di Chioto poi non rispettano gli impegni che hanno sottoscritto non succede niente ovvio quello è il problema quindi a livello di linee guida ogni stato sceglie una strada leggermente diversa le leggi sono molto diverse da stato a stato c'è molta attenzione sull'efficienza energetica perché l'efficienza energetica è la soluzione meno costosa per ridurre le nostre emissioni ma molto dovrebbe essere fatto anche in termini di sobrietà semplicemente consumare di meno perché non ha senso consumare solo perché possiamo dovremmo consumare solo quando ne abbiamo strettamente bisogno la trasformazione dei processi industriali l'integrazione di risorse rinnovabili ci sono ci sono tante soluzioni tecniche quello che determina quali paesi avanzano più velocemente nella transizione è la volontà politica e questo è il nodo della questione se ci fosse una volontà politica molto forte che mettesse la transizione energetica al primo posto non ci sarebbero discussioni su quali target entro quale anno certo che ci sarebbero discussioni però la discussione sarebbe soltanto ok quale tecnologie usiamo per raggiungere quel target assodato che dobbiamo raggiungerlo punto e la l'esitazione politica nei confronti della transizione energetica è molto forte ma è anche disarmante perché noi parliamo di transizione energetica da tanti decenni ed è disarmante vedere come siamo arrivati fino a questo punto perché per esempio alcuni scenari che mostrano quanto potrebbero aumentare o diminuire le emissioni a seconda che tenessimo le policy che sono in vigore adesso o le aumentassimo o le aumentassimo fortemente eccetera non contano il costo dell'inazione quanto ci costerebbe non fare nulla adesso e cercare invece di ridurre tutte le emissioni all'ultimo minuto ci costerebbe sempre molto di più perché non è detto che sia possibile ma ci sono dei grafici che dicono cosa facciamo come sarebbe la storia se non facessimo niente continuassimo a vivere così allora ci sono degli scenari l'IPCC pubblica ogni sette anni un report che è una bellissima lettura per la buonanotte sono più o meno 3-4000 3-4000 pagine di grafici è la bibbia della ricerca sul cambiamento climatico e la transizione energetica della ricerca più avanzata che è stata prodotta negli anni precedenti quindi ogni sette anni c'è questa IPCC assessment report che viene l'IPCC è l'international panel on climate change ed è un'entità che è stata creata nel 1990 ci sono tanti scenari che ci dicono cosa potrebbe succedere se non facessimo nulla se facessimo poco di più e quanto dovremmo fare per riuscire a raggiungere alcuni obiettivi come l'aumento delle temperature globali al massimo entro un grado e mezzo oppure entro due gradi oppure la neutralità carbonica in Europa entro il 2050 il problema è la percezione del rischio e la percezione di quale di questi scenari corrisponde all'inattività cioè poiché spesso ci sono scenari che ovviamente modellano come devono modificare come devono cambiare le emissioni o come possono cambiare le emissioni per riuscire a raggiungere questi diversi target il semplice fatto che esistano scenari che mostrano come potremmo raggiungere la neutralità carbonica in Europa entro il 2050 oppure l'aumento delle temperature globali entro un grado e mezzo allora il concetto che spesso vedo passare è che beh è uno degli scenari possibili va bene stiamo andando in quella direzione non passa invece il concetto che tra i tanti scenari mostrati quello sul quale ci troviamo ora è quello che sta più in alto quello dove le emissioni stanno continuando ad aumentare globalmente perché sono pochi le parti del mondo dove le emissioni invece vengono ridotte e questo si ricollega sempre alla percezione dell'urgenza e del rischio del cambiamento climatico purtroppo io ovviamente sono un po' di parte però l'azione di lobbying fatta negli ultimi 40 anni contro la transizione energetica e contro la il riconoscimento della responsabilità dell'utilizzo di combustibili fossili ha lasciato diversi danni uno di questi è stato che avremmo potuto agire prima ci sono però grandi dubbi su che cosa potrebbe succedere se dovessimo raggiungere livelli di emissioni più più alti di quelli che conosciamo cosa che continua a succedere perché continuiamo ad emettere sempre di più e Johan Rockström che è un ricercatore molto famoso perché ha scritto Planetary Boundaries la descrive così dice che quello che noi stiamo facendo con il cambiamento climatico è come andare di notte in macchina a tutta velocità a fari spenti noi non siamo sicuri di cosa succederà e quindi per questo almeno accendere i fari e rallentare potrebbe essere una scelta saggia per continuare a permettere la vita dell'uomo su questo pianeta perché chiariamoci il problema siamo noi non dovessimo risolverlo si risolve da solo prima o poi però sarebbe bello risolverlo continuando ad esserci e stando tutti in buona salute possibilmente senti io volevo chiederti una cosa hai parlato di percezione errata del rischio invece vorrei farti una domanda su quelle che sono invece le credenze le opinioni o la confusione circa questi temi quali sono le diciamo così le imprecisioni per usare una parola delicata che senti più spesso o la disinformazione magari legata a questi temi allora ci sono tante osservazioni riguardo la transizione energetica riguardo le fonti rinnovabili che non sostengono una transizione che avanti più velocemente o un utilizzo più grande di fonti a basso impatto ambientale a basso impatto di carbone a basse emissioni quella che è stata avanzata per prima era che non c'era bisogno di far transitare il nostro sistema economico da un sistema economico basato principalmente sull'utilizzo di fonti fossili ad un sistema economico diverso non ce n'era bisogno perché in realtà le emissioni prodotte dall'utilizzo di fonti fossili non erano poi così tante questa è stata la prima diciamo fake news ed è stata fatta circolare in un modo molto efficace purtroppo un po' suddolo instillando il dubbio cioè voi siete delle divulgatrici scientifiche io no io faccio ricerche e basta quindi non sono abituata a spiegare a persone che non lavorano nel mio campo l'importanza di questi temi e così come me moltissimi ricercatori che sono estremamente più competenti di me che sono dei veri esperti si sono trovati soprattutto negli anni 90 e primi anni 2000 invitati a controbattere in dibattiti pubblici in televisione alla radio le insinuazioni fatte da dei lobbisti che sostenevano chiaramente di continuare a restare nel sistema energetico in cui ci trovavamo che non facevano altro che instillare il dubbio instillare il dubbio nelle teorie scientifiche poiché non sono tantissime le persone che riescono a che maneggiano facilmente la parte tecnica e scientifica del sistema energia è facile instillare il dubbio in chi non conosce e onestamente non è neanche tenuto a conoscere quindi il problema è stato che questo flusso di disinformazione è durato molto c'è un documentario molto bello basato su un libro scritto da aspettate che la trovo lei si chiama Naomi Oresks il libro si chiama Merchants of Doubts quindi mercanti di dubbi è stato fatto anche un documentario e spiega come lei a un certo punto è una ricercatrice una storica una storica della scienza e si sia chiesta vediamo quanti paper scientifici contengono la parola global climate change o global warming e non attribuiscono all'utilizzo di fonti fossili il fenomeno del cambiamento climatico all'epoca aveva trovato mi sembra novecento e qualche paper che contenevano la parola climate change e nessuno di questi non attribuiva direttamente all'utilizzo di fonti fossili la responsabilità per il cambiamento climatico come conseguenza dell'aumento delle emissioni e la sua ricerca è stata osteggiata fortemente quindi lei fondamentalmente racconta la sua esperienza personale però racconta anche un altro studio che ha fatto che è stata l'esperienza analoga di altri scienziati di fronte ad altri lobby per prodotti chimici per l'industria del tabacco diciamo che il sistema in cui lei si è trovata era stato già utilizzato e funziona molto bene instillare il dubbio spesso costa meno e è più efficace che non costruire conoscenza e fiducia perché i temi di cui parliamo l'industria dell'energia sono complicati ovviamente sono molto tecnici per esempio una delle non voglio dire fake news perché la disinformazione non passa soltanto per le notizie false ma passa molto spesso per notizie che sono soltanto parziali oppure che sono leggermente travisate riportate fuori contesto che uniscono alcuni dati corretti e alcuni dati scorretti ed è molto difficile capire se quello che leggiamo sui giornali è affidabile o meno per esempio senza fare nomi su una testata in particolare italiana su solo 24 che facciamo lì i nomi ci sono spesso tanto voglio dire non è che ci vuole tanto ci sono spesso degli articoli che parlano di carbon capture and storage il concetto di carbon capture and storage è una tecnologia che assorbe le emissioni di energia carbonica fuori da una centrale elettrica e questa tecnologia permetterebbe di assorbire le emissioni sul luogo e accumularle direttamente ora fino ad oggi non esiste io non ho ancora trovato un singolo paper scientifico quindi peer reviewed pubblicato controllato che dimostri che il sistema di carbon capture and storage è economicamente fattibile perché costa molto è anche vero che ci sono diversi dubbi sull'efficacia tecnica esiste un sistema funzionante fuori da una centrale geotermica in Islanda che credo sia stato installato un paio di anni fa poi io non sono un ingegnere quindi mi occupo degli aspetti economici di questi temi nonostante questa mancanza di dati a supporto della solidità della carbon capture and storage come soluzione ci sono testate che continuano a proporla come la chiave di volta perché il carbon capture and storage è come la liposuzione non ha importanza che io conduco una vita sana tutti i giorni abbia un'alimentazione equilibrata perché tanto posso sempre andare poi a fare un intervento chirurgico e invece quello che noi dovremmo capire è che consumiamo troppo e consumiamo male quindi non è che la soluzione sta nel continuare a consumare troppo e male senza preoccuparci di cambiare sistema perché tanto mettiamo una spugna che assorbe alla fine del tubo di scarico della centrale non è quella la soluzione avendo un po' di familiarità con la comunicazione che viene fatta intorno ai termini energetici e del cambiamento climatico suona il campanello d'allarme che il concetto di carbon capture and storage venga promulgato da un settore economico ben definito che sono ovviamente tutte le aziende petrolifere e affiliate perché la transizione energetica toglie una fetta di mercato molto importante a questi combustibili e la sposta verso altre fonti mentre se la carbon capture and storage fosse una soluzione fattibile non bisognerebbe abbandonare l'utilizzo di fonti fossili in realtà la soluzione come in tutto sta nella moderazione nella via di mezzo sta nella moderazione perché anche le fonti rinnovabili hanno i propri limiti ci sono alcune fonti per esempio il solare l'eolico che hanno una natura intermittente noi siamo abituati ad accendere l'interruttore della centrale farla partire spenderlo no non si spengono le centrali comunque modificare la generazione in base ai nostri bisogni perché il sistema elettrico deve essere perfettamente in equilibrio perché ovviamente se no ci sono dei rischi diciamo rischiamo un break out mentre la paleolica produce quando c'è vento il vento non è costante ci sono venti più costanti e ovviamente è lì che vengono installati gli impianti eolici il pannello solare produce quando c'è sole produce lo stesso anche se c'è nuvolo però produce un pochino di meno mettere nel sistema elettrico la produzione da fonti che sono così fluttuanti comporta dei sistemi di bilanciamento dei servizi di bilanciamento più come posso dire maggiori rispetto a quelli che abbiamo ad oggi i servizi di bilanciamento ovviamente li abbiamo già perché il sistema appunto deve essere sempre in equilibrio però la capacità dei servizi di bilanciamento odierni non è sempre proporzionata alla quantità di generazione distribuita da fonti rinnovabili come si fa il bilanciamento con una fonte che può essere modulata quasi in tempo reale ci sono delle centrali che hanno una capacità che si chiama spinning perché quasi in tempo reale possono essere portate a massima potenza o spente o modulate per esempio l'idroelettrico è una delle fonti spinning ottime ma da sempre in Italia usiamo moltissimo idroelettrico di grande portata le centrali a gas anche sono molto modulabili però il gas è sempre un combustibile fossile quindi comporta un'intensità di emissioni molto elevata spesso spesso per esempio si legge che alcune compagnie del settore oil and gas stanno abbracciando la transizione energetica e hanno fatto grandi investimenti nella transizione energetica e nelle fonti rinnovabili così a occhio se io nella vita produco automobili non inizierò a produrre biciclette mi sembra un po' strano non suona benissimo quindi una cosa che faccio spesso quando leggo queste notizie perché poi mi innervosisco nel leggere disinformazione è andare a cercare quanto è stato dichiarato e quanto è il come si dice il bilancio dell'azienda per quell'anno per capire di cosa stiamo parlando ci sono delle aziende che hanno del settore oil and gas che effettivamente hanno dichiarato investimenti che arrivano quasi fino al 4% del loro bilancio annuale total è una che ha dichiarato questi investimenti che poi vengono fatti che vengono fatti andando a vedere metà della dichiarazione si occupa di efficientamento dei propri sistemi industriali e sviluppo della carbon capture e storage quindi alla fine rinnovabili siamo al 2% e questa è l'azienda che al mondo ha dichiarato l'azienda petrolifera che ha dichiarato di investimenti maggiore sempre dichiarati non ancora effettuati ma è facile diffondere disinformazione con notizie brevi rivolte a persone che non sono pratiche del tema perché l'ordine di grandezza è quello di cui facciamo fatica ad avere tutti una percezione chiara l'ordine di grandezza è quest'anno la bolletta del gas dei primi tre mesi è costata a seconda delle regioni una volta e mezza quella del primestre dell'anno scorso due volte quella del primestre dell'anno scorso l'alternativa sarebbe sarebbe stata non acquistare nemmeno quel gas e non avere il riscaldamento a cui siamo abituati oppure l'alternativa potrebbe essere una critica che viene mossa spesso alle fonti rinnovabili è che costano troppo questo a livello di costo livellato dell'energia per kilowattora non è più vero per il solare e l'eolico soprattutto ma anche per molte altre fonti allora la critica successiva è che richiedono dei costi di bilanciamento molto elevati quindi poiché nel prezzo si chiama levelized cost of energy non si includono i costi di bilanciamento ma si includono soltanto i costi di generazione si dice che questi il costo di un'energia da una centrale tradizionale e da un impianto rinnovabile non sono paragonabili sì ma l'alternativa qual è? l'alternativa a pagare dei costi di bilanciamento di servizi di bilanciamento che potrebbero essere un po' più alti adesso perché siamo in questa fase perché ricordiamoci con le economie di scala il costo di una tecnologia che diventa sempre più diffusa va via via riducendosi perché ci sono più produttori perché avanza la tecnologia perché il mercato cresce l'alternativa è rendere alcune parti del pianeta così invisibile da mettere a rischio la vita di molte persone su questo pianeta questa è l'alternativa che noi non riusciamo ancora a identificare quando pensiamo alla scomodità di riscaldare un grado in meno durante l'inverno o raffreddare di meno durante l'estate o non avere affatto un condizionatore o utilizzare i mezzi pubblici anziché un mezzo privato passare ad un'auto elettrica anziché utilizzare un'auto tradizionale vediamo la scomodità nella vita di tutti i giorni ma non riusciamo a percepire l'ordine di grandezza della gravità del rischio a cui stiamo andando incontro a tutta velocità per esempio una delle critiche che veniva mossa che è stata mossa a lungo alle paleoliche era che le paleoliche creano un rischio per le comunità di uccelli praticamente la domanda è ma può davvero uno stormo di uccelli morire contro una paleolica insomma la paleolica è grande la vedono in realtà sì certo che può perché la pala al bordo della pala viaggia ad una velocità molto alta parliamo di chilometri all'ora perché la pala è molto grande quindi c'è stato un ricercatore che a un certo punto stanco di questa di questa critica che continuava a leggere ha detto va bene facciamo una stima e quindi ha pubblicato un paper dove stima quanti milioni di uccelli muoiono ogni anno negli Stati Uniti e lui ha stimato che contro le paleoliche ha stimato che circa 1,17 milioni di uccelli muoiono ogni anno negli Stati Uniti quindi sì è vero è vero gli uccelli possono morire contro gli Stati Uniti il problema di cosa stiamo parlando sono tanti lui ha stimato che questa cifra corrisponda al 0,016% della popolazione totale però voi mi direte chi se ne frega quanto è rispetto alla popolazione totale sono tanti rispetto a quelli che muoiono per altre cause dunque 1,17 quelli contro le paleoliche lui aveva stimato tra i 5 e i 6,8 milioni contro le torri di comunicazione circa 60-80 milioni all'anno negli Stati Uniti contro le automobili fino a 90 milioni a causa dei pesticidi e 360 e passa milioni per via dei gatti quindi stiamo parlando di uno dei gatti quindi gatti contro paleoliche questo è quello di cui stiamo parlando i gattini fanno sempre audience quindi li mettiamo ma il punto è l'ordine di grandezza che manca spesso nelle notizie che fanno disinformazione chiaro ma ora ti abbiamo rubato veramente tanto tempo e te ci hai credo dato secondo me una chiave di lettura sicuramente migliore sull'ambito della transizione energetica almeno dal mio punto di vista quindi spero anche per tutti gli altri ti vorrei fare questa quest'ultima domanda abbiamo parlato di ricercatori e ci chiedevamo sostanzialmente come diciamo la crisi climatica è stata affrontata da un lato come vista diciamo da un lato dal mercato e dall'altro dalla scienza e in questo caso se per caso i ricercatori le ricercatrici hanno in qualche modo identificato degli step che possiamo diciamo adottare oppure hanno lasciato totalmente campo libero alla politica come sembra da quello che ci ha raccontato fino ad ora quindi confermami che non è così magari beh sai i ricercatori possono portare dati e prove scientifiche non è detto che questi vengano ascoltati ovviamente certo come abbiamo visto in tanti altri in tanti altri ambiti non è detto che poi le scelte politiche seguano il buon senso delle prove scientifiche non c'è una formula unica come soluzione alla transizione energetica diciamo che ci sono tanti aspetti sui quali è importante agire il primo è consumare di meno noi consumiamo troppo buttiamo molta energia perché la usiamo quando ne abbiamo bisogno quando non ne abbiamo bisogno ma anche perché la usiamo in apparecchi e processi che potrebbero usarne di meno quindi l'efficienza energetica è la prima chiave per affrontare la mitigazione al cambiamento climatico passando anche per la sobrietà però soprattutto l'efficienza e la sufficienza il concetto di creare un sistema dove ci facciamo bastare quello che è sufficiente per vivere e stare bene perché il problema è anche un problema economico soprattutto noi abbiamo creato un'economia e non parlo soltanto di capitalismo parlo dell'economia in cui ci troviamo al momento che dà valore quasi solo al profitto ed è strutturata in modo da crescere sempre all'infinito negli anni 80 abbiamo deciso che un'inflazione più o meno intorno al 2% è un'inflazione sana il 2% ogni anno il che significa che l'economia deve continuare a crescere i prezzi devono continuare a crescere la produzione deve continuare a crescere e quindi anche il consumo deve continuare a crescere ma voi quante comunità di piante organismi animali batteri conoscete che crescono all'infinito a me dispiace come si dice counterintuitive non ha senso noi non possiamo continuare a crescere quello che succede con una comunità di batteri è che continuano a crescere fino a quando l'ambiente in cui la comunità si trova diventa magari per asfissia invivibile e quindi la comunità si riduce sembra la strategia dell'essere umano no? è la stabilità no? il benessere per esempio il benessere non è un fattore a cui la nostra economia dà molto valore stare meglio tutti una distribuzione più equa perché tutti stiano bene non perché tutta l'economia continui a crescere per sempre quindi consumare meno consumare meglio certo più consapevolezza aiuterebbe il problema che è un problema di flusso e di stock dunque quando noi parliamo di neutralità carbone che è l'obiettivo che l'Unione Europea ha per il 2050 e alcune città ce l'hanno in Europa ce l'hanno per il 2030 poche settimane fa è stata pubblicata la lista delle 100 città che si sono impegnate a diventare carbon neutral entro il 2030 parliamo delle emissioni che vengono prodotte ogni anno quindi se dovessimo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti al 2050 non staremo più emettendo perché quello che consumeremo sarà o non avrà emissioni o le emissioni che produrremo le riassorbiremo in diversi modi però tutte quelle che abbiamo emesso finora noi abbiamo un flusso annuo però abbiamo uno stock dato da tutti gli anni precedenti e il problema è proprio quello il problema è che molte delle emissioni che abbiamo prodotto finora sono state in parte riassorbite dal sistema senza che noi ce ne accorgessimo l'aumento delle temperature globali si è verificato più lentamente di quello che avrebbe potuto fare se buona parte delle emissioni non fossero state riassorbite dalla biomassa dalla biosfera in generale dalla biomassa dalle piante e quindi di conseguenza dal terreno dagli oceani acidificazione degli oceani e l'aumento delle temperature degli oceani sono una conseguenza diretta della maggiore dissoluzione di anidride carbonica nell'acqua marina quindi noi in realtà non stiamo vedendo le conseguenze dirette di tutto quello che abbiamo emesso finora perché fondamentalmente il pianeta è fatto per restare in equilibrio quindi ci sarà il problema di riassorbire le emissioni che abbiamo già prodotto come principalmente con la biomassa con le piante con la vegetazione c'è chi parla di alghe c'è chi parla di riforestazione però certo possiamo anche forse un giorno raggiungere un sistema di carbon capture e storage che sarà sufficientemente efficace e sufficientemente economico da poter essere usato però per il momento abbiamo tante piante che potremmo piantare e che fanno esattamente la stessa cosa la domanda è lasciando agire il mercato non del tutto perché abbiamo visto che finora il mercato proprio perché abbiamo costruito un'economia che è così strutturata ha dato la prevalenza al profitto e non al benessere perciò abbiamo imparato negli anni che i valori che per noi sono più importanti vanno protetti per legge per esempio lo stiamo facendo progressivamente con gli standard di efficienza energetica per gli elettrodomestici per gli automobili per gli edifici la regolamentazione è uno degli strumenti principali per guidare il mercato poi il mercato ovviamente si occupa di scegliere il di trovare il prezzo e di scegliere chi possa fornire lo stesso bene o lo stesso servizio al prezzo più conveniente rispetto alle condizioni di mercato però per riuscire ad avere una regolamentazione strutturata organica ci vuole una percezione del rischio che ancora vacilla e ci vuole una volontà politica una volontà politica di effettuare di completare la transizione energetica non è stata molto forte negli ultimi anni ora per esempio il concetto di impronta carbone il carbon footprint che è un concetto molto utile per capire quanto contribuisce la singola azienda o il singolo individuo alle emissioni globali è però un concetto che è stato introdotto un paio di decenni fa da BP da British Petroleum BP aveva pubblicato sul proprio sito un calcolatore che permetteva alla persona che visitava il sito di inserire le proprie abitudini di vita viaggi spostamenti dimensioni della casa elettrodomestici nucleo familiare eccetera e calcolare quanto fosse la propria impronta carbone molto bene che siamo tutti capaci di essere consapevoli di quanto emettiamo bene che facciamo una scelta meno impattante per esempio andare a lavoro in bicicletta anziché in macchina se possiamo se questo è possibile però introdurre il concetto di carbon footprint è stato molto controverso dal punto di vista del sostegno alla transizione energetica perché con questa azione il messaggio che passava era certo noi estraiamo produciamo e raffiniamo fonti fossili ma voi le usate quindi la responsabilità va condivisa il problema è vero che la responsabilità è condivisa però se la responsabilità viene spostata dall'azienda produttrice al singolo individuo viene anche frammentata e frammentando la responsabilità si frammenta la capacità d'azione e di conseguenza si blocca l'azione una forte volontà politica a livello di sistema paese ma anche a livello di comunità locale è spesso quello che determina la transizione energetica più efficace e più rapida e a livello di percezione la transizione non è essendo un cambiamento è sia un rischio che un'opportunità è entrambe le cose però noi abbiamo voi come CICAP ci insegnate che costa molto più energia cambiare una situazione che è già sedimentata cambiare le proprie abitudini e le proprie convinzioni rispetto a mantenere un sistema anche se quel sistema è imperfetto quindi c'è tanto da fare ancora però ci sono tante soluzioni c'è ancora molta strada grazie Giulia per essere per essere stata qui con noi averci raccontato della transizione energetica grazie da Sara grazie a voi grazie Giulia ma grazie a voi grazie agli ascoltatori e agli ascoltratici che ci stanno seguendo ricordo che potete trovarci sulle principali piattaforme di diffusione di podcast ci vediamo al prossimo episodio grazie a tutti Grazie a tutti